Io sono molto emozionato quest'oggi perché ho anche da testimoniare chi era ieri presente, io ho chiesto preghiere per mio figlio Whitney che ha appena poco meno di 12 anni, che per cinque giorni ha avuto febbre altissima, vomito, inappetenza, pensate che negli ultimi giorni ha perso 4 kg di peso e ieri ero con voi e ho chiesto preghiere perché eravamo molto preoccupati, ieri mattino l'ho portato in ospedale a fare degli esami, ieri sera si è addormentato, aveva ancora 38,9 di febbre e sono molto emozionato, il signore stamattina ha fatto un'opera meravigliosa perché si è alzato, mio figlio non aveva più febbre, non ha avuto più febbre, non ha più vomitato e ha avuto subito e mi ha detto papà ho fame e ha ripreso a mangiare dopo cinque giorni, pensate che erano tre giorni che non andava neppure in bagno, gli esami che ha fatto ieri non sono il massimo ma perché il signore ha operato questa notte, in prossimi giorni rifaremo gli esami e avremo le conferme da parte di Dio che il signore ha operato, si è parlato poco fa di preghiera, oggi un culto anche di preghiera, ringrazio il signore perché il signore attende alle nostre preghiere, io lo ringrazio con tutto il cuore, ripeto sono molto emozionato perché vedere il proprio figlio per cinque giorni disteso in un letto che non vuole mangiare inappetente e che sta male, fa molto male, ho pensato anche al padre che guardava come abbiamo ascoltato poc'anzi, Gesù su quella cruce, non si può immaginare quello che ha passato nostro padre. Amen. Io voglio leggere con voi quello che il signore mi ha posto nel cuore già da diversi giorni che in parte avevo anche partecipato sabato durante il culto di Santa Cina che si trova nell'Evangelo di Giovanni nel primo capitolo dal versetto 35 al versetto 39. Leggeremo un episodio straordinario, potremmo definirlo la genesi, la genesi del cristianesimo. Dice così la parola dell'Eterno. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli avendolo udito parlare seguirono Gesù. Gesù voltatosi e osservando che lo seguivano domandò loro che cercate? Ed essi gli dissero rabbì che tradotto vuol dire maestro dove abiti? Egli rispose loro venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui in quel giorno. Era circa la decima ora. Amen. Come vi ho detto faremo un escursus velocissimo per quanto riguarda proprio l'inizio del ministerio di Gesù, la genesi di tutto e arriveremo fino a quel momento come il fratello che mi ha preceduto, che ha tanto parlato al mio cuore, Signore, attraverso la sua parola. Arriveremo fino al momento della Santa Cine. Un bel salto nel tempo attraverso che cosa? L'esperienza dei discepoli. Perché l'esperienza dei discepoli è la nostra. Se noi siamo giunti sin qui è perché proprio i discepoli hanno creduto in quello che hanno ascoltato. Amen. E quindi è un momento molto importante per quello che ci riguarda come figli di Dio. Noi sappiamo che appunto in questa storia comincia il giorno seguente. Nei giorni precedenti a questo avvenimento Giovanni Battista battezza Gesù e evangelizza. Tant'è vero che leggiamo in Giovanni nel primo capitolo del versetto 15, se non ricordo male, è intitolato appunto Testimonianze di Giovanni Battista. Proprio lui comincia a testimoniare di Cristo. Ed è la stessa cosa che un giorno qualcuno ha fatto con noi. Ci ha parlato di Cristo Gesù. Quindi Giovanni Battista è il primo evangelista. Gesù l'ha definito l'uomo più importante nato da donna. Perché? Perché lui aveva un ministerio unico. Lui ha partecipato al mondo la venuta del Salvatore. Quindi non era la persona in sé che era importante ma il messaggio che lui portava. Ma lui oltre questo immediatamente dopo aver battizzato Gesù comincia ad evangelizzare tutti quanti e in primis i suoi discepoli. Tant'è vero che quando vede Gesù, quindi il giorno dopo questi avvenimenti, vede Gesù passare e lo indica ai suoi discepoli dicendo ecco l'agnello di Dio. E avendolo udito parlare, quindi noi tutti abbiamo cominciato a seguire Gesù. Quando abbiamo ascoltato qualcuno che ci ha parlato di Gesù dicendoci ecco l'agnello di Dio, ecco il Salvatore del mondo, come è stato detto poc'anzi. Gesù è l'unica via. E quindi quando abbiamo ascoltato abbiamo messo in pratica la nostra fede, cioè abbiamo cominciato a seguire il maestro. Ecco perché Gesù è definito io sono il cammino, ci ha detto. La verità è la vita. Quindi bisogna seguire questo cammino e non restare statici e lo vedremo proprio durante il proseguo di questi tre anni come questo è, quanto questo è vero. Ora Gesù voltato si vede, i due che lo stanno seguendo, uno dei due appunto è Andrea, fratello di Pietro, e gli chiede appunto, gli fa questa domanda, che cercate? Questa è una domanda che lo Spirito Santo sta avvolgendo al nostro cuore. Poco fa è stato anche un messaggio di grande esortazione che il Signore sta facendo al suo popolo. E il Signore ci sta dicendo ancora, continuando a parlare in questo ambito, dicendoci appunto che cosa stiamo cercando. Che cosa cercate? È un termine che parla di comunione. Vi ricordate per esempio Pietro sul monte della trasfigurazione cosa disse? Maestro facciamo qui tre tende, quindi un luogo in comune, dove noi possiamo stare insieme. Quindi quello che Gesù stava dicendo, che cosa cercate? Qual è il desiderio del nostro cuore? Poc'anzi abbiamo ascoltato appunto che Bartimeo cercava di recuperare la propria vista. L'abbiamo visto anche questo aspetto dal punto di vista spirituale. Amen. Ma ci sono tanti altri esempi nella Bibbia che molti cercavano per esempio anche un bisogno materiale, una cura anche come dire non fine come ad esempio i dieci lebrosi. Loro non cercarono tutti una cura spirituale, solo uno tornò da Gesù. Ebbe il coraggio di tornare da Gesù e quindi magari di seguire il maestro. Quindi il che cercate è una domanda profonda dal punto di vista proprio spirituale che il Signore sta continuando a porci in questa serata. Quindi i discepoli avrebbero, discepoli ancora di Giovanni Battista, avrebbero potuto dire maestro noi siamo, io sono pescatore, non ho una barca, i miei genitori l'hanno, io ho bisogno di un sacco di cose dal punto di vista materiale. Avrebbero potuto chiedere chissà quale cosa e oggigiorno, visto che noi stiamo parlando di rapportarci alla chiesa primordiale in questa genesi, sappiamo che purtroppo, per esempio dove vivo io qui in Brasile, c'è questo neopentecostalismo che ormai da decadi si sta manifestando sotto il profilo di messaggi del tipo che cercate e le persone in chiesa che cercano il benestare, lo star bene, cioè cercano una casa, cercano un lavoro, cercano di tutto tranne l'avere una vera comunione con il Signore, come è stato detto poc'anzi. Ed è interessante in questo ciclo di tre anni, questo percorso di tre anni degli apostoli, che la risposta proprio di questi dà ad intendere che loro non stavano cercando solo di riempirsi la pancia, come nel caso della moltiplicazione dei panni e dei pesci, ma la risposta loro è straordinaria. Loro che cosa dicono? Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Ecco, dove abiti? Quindi quel segno intangibile di comunione, loro vogliono sapere dove abita il Signore, cioè vogliono stare con il Maestro. Per loro la vera benedizione di Dio è Dio, il resto gli è sopraggiunto, come lo stesso Gesù dirà in molte circostanze, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi gli apostoli non hanno visto, i futuri apostoli non hanno visto nessun miracolo, loro sono andati a chiedere a Gesù, Signore dove abiti tu? Noi vogliamo stare con te. Io credo che il desiderio nostro, se siamo qui questa sera, è proprio questo, che noi vogliamo stare per sempre con il Signore, avere una vera e profonda comunione. Amen. Quindi questo percorso, loro quindi seguono il Maestro, Gesù li mostra dove abitava. Nel Matteo capitolotto ci viene detto che Gesù non aveva neanche un luogo dove poggiare il capo, quindi loro non vedono una reggia, vedono solamente dove Gesù riposava durante la notte, un luogo semplice e nonostante ciò, loro continuano a seguire il Maestro. La prova l'abbiamo che tre giorni dopo da questo avvenimento, sempre in Giovanni, leggiamo che cosa? Che Gesù viene invitato con i suoi discepoli e con la sua madre e i suoi fratelli ad un matrimonio, famoso no? Il matrimonio delle nozze di Cana, dove Gesù si manifesta per la prima volta con il primo miracolo. Quindi gli apostoli non hanno ancora visto miracoli, ma sono lì con il Maestro, lo stanno seguendo indipendentemente dai miracoli, fra virgolette. E lì succede il primo miracolo, ovviamente loro sono rincuorati da questo e quindi cominciano a credere ancora di più, perché se noi seguiamo il Signore, come disse il Signore a Natanaele, solo perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico e tu stai credendo in me, bene, se tu mi seguirai, tu vedrai cose straordinarie. Ed è quello che succede nella vita di tutti coloro che seguono il Maestro. Amen. Quindi inizia questo viaggio di tre anni straordinario. Sappiamo che dopo questo momento Gesù, con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, si spostano in Cafernau. Vanno in Cafernau probabilmente per preparare la base logistica dove Gesù svolgerà il suo ministerio. Tant'è che c'è scritto che rimassero lì per pochi giorni. Perché per pochi giorni? Sempre in Giovanni. Perché sicuramente la madre e i fratelli di Gesù, essendo di Nazareth, non rimassero tutto il tempo con lui. E quindi Gesù ritorna a casa e lascia probabilmente, perché non viene fatta menzione in Luca, quando lui ritorna appunto a Nazareth, lascia probabilmente a Cafernau i suoi discepoli. E in questa circostanza lui già comincia a compiere miracoli che noi non ne conosciamo, non conosciamo cosa lui fece, come dice in Giovanni, non si possono enumerare i miracoli di Gesù, ma sappiamo di questo proprio in Luca, al capitolo 4, quando Gesù ritorna a Nazareth e succede che cosa? Giunge il giorno di sabato e lui si reca nella sinagoga. Gli viene posta la Torah. Dinanzi Gesù la apre nel libro di Isaia e legge quella famosa, famosissima profezia che lo riguardava. Quindi lui torna a casa sua dove lui era cresciuto e legge questo versetto, questi versetti che voglio citare dalle scritture. Lo spirito del Signore è sopra di me. Versetti straordinari. Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi a proclamare l'anno accettevole del Signore. Parole straordinarie, profezie che si compiono esattamente davanti agli occhi di quella sinagoga, di quei fratelli, di quelle sorelle. Tant'è vero che Gesù dice oggi davanti ai vostri occhi si è compiuta la parola di Dio e loro si arrabbiarono. Perché si arrabbiarono cari nel Signore? La Bibbia si stava compiuta davanti ai loro occhi. La Torah era lì, il figlio di Dio, le profezie erano lì. Perché dicono, dissero, ma tu sei il figlio del falegname. Questo è il figlio del falegname, ma è uno qualsiasi. Quindi non ebbero l'accuratezza di guardare sotto il profilo spirituale di quelle profezie e di andare oltre. Si rimassero all'apparenza del Cristo, dell'uomo. Ma scusatemi, ma Giovanni Battista non era cugino di Gesù, più grande di sei mesi. Pensate che forse che non conoscesse suo cugino. Ma quando Giovanni Battista vide Gesù che si compì la profezia, quindi che la colomba si posò su Gesù Cristo, riconobbe l'autorità spirituale di Gesù. Questo è l'uomo che io non posso neanche sciogliere i legacci, i calzari dai suoi piedi, disse testimonio di questo. Quindi fece crescere Cristo, che è la figura, appunto, è quello che dovremmo fare sempre noi, e lui diminuì. Quindi, come dire, la Chiesa, strutturata così com'è, come dire, con un atteggiamento di consuetudine, comportamento ripetitivo, questo culto ripetitivo che c'era in questa sinagoga, portò alla cicità spirituale ed è stato detto, tu puoi vivere in una Chiesa, puoi vivere il tempo tutto in una Chiesa e non realizzare veramente la conoscenza del Maestro. E questo avvenne in quella comunità. Ecco che Gesù disse, ecco perché io non potrò fare le stesse opere, avete sentito che sono già cadute a Caffernaum, che Gesù aveva già compiuto. E quindi Gesù enuncia quella frase dicendo, appunto, che nessun profeta sarà famoso in patria e lasciò Nazareth per recarsi a Caffernaum, dove un'altra profezia. Lo stava, appunto, accompagnando quella, appunto, di Isaia che ritratta in Zebulo, nel paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione di là del Giordano, avviene questa profezia. Qual è? Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce e su coloro che giacevano nella regione nell'ombra della morte si è levata una luce. Chi è questo popolo? Il popolo di Israele era nelle tenebre. Ma come? L'unico popolo al mondo che aveva le sinagoghe, aveva il Tempio, aveva la Torah, aveva Dio. Com'è che era nelle tenebre? È la stessa ragione per cui, che abbiamo visto poc'anzi, cioè quando Gesù entra nella sinagoga, il popolo è cieco spiritualmente, non ha aperto il cuore alla verità, non riesce a realizzare la scrittura nella propria vita. Noi stiamo vivendo un tempo, io ieri ne ho parlato, Gesù sta tornando. La domanda che lo Spirito Santo ci sta facendo questa sera è la seguente, che cosa state cercando? Che cosa stiamo cercando, fratelli e sorelle? Che tutto torni come prima? Che se abbiamo perso il lavoro possiamo riprendere a lavorare? Non lo so, qualsiasi cosa stiamo cercando? Chiediamo al nostro cuore se questo è realmente il vero, come dire, deve essere il vero, il fulcro del nostro pensiero, il fulcro del nostro desiderio. Quindi cerchiamo prima le cose spirituali. Signore, io voglio cercare dove tu abiti, voglio seguirti, voglio essere con te in ogni momento della mia vita. E se noi facciamo questo, il Signore ci farà vedere cose straordinarie. Tant'è vero che Gesù, quando ritorna a Caffernaum, che cosa avviene? I discepoli vedono succedere di tutto. Guarisce la sua cere di Pietro, cominciano a vedere miracoli straordinari, così la fama di Gesù cresce all'inverosimile, al punto che Gesù sta per evangelizzare tanta di quella gente che la gente si accalca in modo che lui non riesce più a contenerla e chiede a Pietro, che è il proprietario di una barcha, ad un'altra barcha che era lì, all'altro proprietario, di allontanarsi, di riceverlo e allontanarsi un attimino dalla riva per poter partecipare, le mangino a tutti. Bene, durante questo momento tanti ricevono la parola di Dio, il Signore parla al loro cuore e quando noi ci avviciniamo al Signore, il Signore ci parla continuamente. Lo ringrazio con tutto il cuore perché ieri sera ero un uomo davvero contristato dalla salute di mio figlio, ma oggi sono felice, sono allegro all'inverosimile. Il mio spirito era al 100% ieri sera e al 100% è oggi, ma la mia carne soffriva. Il gloria si è adatto al nome del Signore perché il Signore ha atteso alle nostre preghieri. Quindi Gesù, che cosa succede? Evangelizza quel popolo e vede anche i discepoli che sono con lui, che non hanno ancora toccato con mano il miracolo nella loro vita. E Gesù compie il miracolo della pesca miracolosa. Amen. Quindi Gesù compie un miracolo anche per i Suoi servitori. Ecco che mi viene in mente Luca 22,35 che dice quando io vi ho mandato senza calzare, senza una borsa, quindi senza denaro, senza un cambio di robe, vi è forse mancato qualcosa. I discepoli risposero niente. Io sono 16 anni che non lavoro, in un'altra circostanza vi racconterò per fila per segno come il Signore mi sta sostentando. È qualcosa di straordinario. Amen. Io quando mi vedono qui mi chiamano gringo perché sono straniero e anche alla mia carnagione, gli occhi chiari. Quando vado nell'interno qui del Brasile dove io amo stare per strada, evangelizzare, è il mio diletto perché io sono nato proprio per essere un evangelista. Sono scrittore di professione ma l'evangelismo è stare per strada per me, visitare le chiese. Gloria sia data al nome del Signore. Io dico sempre che guardate che io sono un missionario, non sono un milionario, perché non sono ricco ma sono ricco della grazia di Dio e non mi manca nulla. Posso confermare questa parola che troviamo in Luca 2235 perché è la parola che ha contraddistinto anche questo mio camminato. Cari nel Signore, io vi dico questo, seguiamo il Maestro, seguire il Maestro significa non necessariamente licenziarsi da lavoro. Io ho chiuso, avevo una bireria in Italia 16 anni fa e il Signore mi ha detto seguimi, mi ha fatto comprendere questo e ci ha messo un po' di tempo perché in realtà io ero già credente da più di 7 anni. Il Signore mi parlava, chiudi tutto e seguimi, ma è chiaro che io avevo carnalmente, avevo dei bisogni e non riuscivo a comprendere e quindi molte volte non riusciamo a comprendere come gli apostoli non riuscivano a comprendere quando Gesù diceva io morirò, sulla croce risorgerò, non riuscivano a comprendere, ma quando arriva il momento comprendiamo ogni cosa. Quindi fidiamoci di Dio, non tiriamoci indietro ma continuiamo a seguirlo. E quindi perché se noi ci fideremo del Signore avremo fiducia in Lui, noi vedremo cose straordinarie. E loro viderono per tre anni una serie di miracoli che Giovanni dirà non si possono enunciare tutti questi miracoli. Se furono tantissimi da ogni punto di vista, noi ritroviamo pochissime nei Vangeli, ma sappiamo attraverso Giovanni che successe di tutto in quei tre anni. Immaginate la vita come cambiò. Ecco perché Gesù dice io sono la vita. Quindi seguire Gesù ci porta a vivere l'Evangelo appieno. Amen. Adesso facciamo con un salto lungo, tre anni, e ci ritroviamo nuovamente come il fratello ha terminato durante l'ultima cena. Durante l'ultima cena Gesù serve gli apostoli, li serve, li lava i piedi. Amen. Conosciamo tutto questo aspetto, ma è scritto in Luca dal capitolo 22, che dal versetto 24, che i discepoli dopo la cena, la santa cena, l'ultima cena, incominciarono tra di loro a bisticciare su chi fosse il più grande. Come? Dopo tre anni di miracoli, dopo quello che il Signore vi ha fatto in questa circostanza, loro sono lì che non hanno questa conoscenza della verità. Allora ecco, leggiamo cosa accade dal versetto 27, dal versetto 24, chiedo scusa. Fra di loro nacque anche una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Ma come dice il Signore nel versetto 27? Perché? Chi è il più grande, chi vuole essere il più grande deve servire. Lui non può, io vi sto servendo, io sono grande, mia mamma vi sto servendo. Io vi sto dando un esempio. Quindi ancora una volta il Signore vuole insegnarci l'umiltà a restare piccoli affinché noi vedremo la sua gloria. Ma io sono in mezzo a voi, aggiunge Gesù, come colui che serve. E allora noi dovremmo dire dopo tre anni Gesù vede questa reazione, sta per andare via, ha mostrato loro appunto attraverso il lavaggio dei piedi, li ha serviti a tavola. Io come mi sono detto, se fossi stato io li avrei mandati via. Ma come? Dopo tre anni voi siete ancora a queste condizioni. Io sto per andare via. Voi che cosa combinerete? Cosa farete? Ma non è questo. Perché Dio ci ama per quello che noi siamo e vuole costantemente che cambiamo il nostro carattere, il nostro essere. Ecco perché Gesù disse voi dovete servire. Quindi l'insegnamento dello Spirito Santo è continuo e bisogna ascoltare, mettere in pratica. Sappiamo che non possiamo farci. Per questo il Signore ci ha donato il suo Spirito Santo. Poco fa è stato detto ci sono dei peccati, qualcosa e qualche legame. Signore io non riuscivo a smettere anticamente di fumare. fumavo. Il Signore mi ha liberato e tutti quanti noi siamo stati liberati da tutto ciò che ci faceva del male. Amen. Allora Gesù, dopo questo piccolo rimprovero, ecco che noi troviamo la, come dire, la chiave di lettura del perché gli apostoli hanno seguito il Maestro. Il versetto 28 di Luca 22 dice or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Quindi Gesù sta dicendo che cosa? Voi siete stati con me nelle mie prove. Come Gesù ha attraversato delle prove. Bene, abbiamo detto all'inizio che Gesù, dopo essere stato 40 giorni nel deserto, in quel deserto Gesù ha ricevuto dal Padre probabilmente ciò che avrebbe dovuto fare in quei tre anni, il suo ministerio, e ha compreso in quel momento anche come sarebbe morto, di che morte sarebbe, di come sarebbe morto appunto di croce, tutto ha ricevuto. Come possiamo comprendere questo? Sappiamo che il numero 40 è un numero della prova, è un numero anche del deserto, di un numero di appartarsi con Dio, come il Signore disse a Mosè, lascia che il mio popolo venga per tre giorni a celebrare un culto con me nel deserto. Quindi il deserto non è visto da parte di Dio come un luogo di angoscia. Per certi versi potrebbe esserlo, certo, perché a volte Dio permette questa finché noi alziamo gli occhi verso il cielo, perché non abbiamo nessuno intorno che ci possa soccorrere. E Mosè, tra gli altri, passò 40 giorni sul Monte Sinan con il Padre, dove ricevette appunto tutte le tavole, gli ordinamenti per il popolo. Quindi è questo momento che Gesù passa, riceve nel deserto per 40 giorni ciò che avrebbe dovuto fare, e quindi ogni tanto con i suoi amici, perché Gesù chiama gli apostoli, gli amici, ricorda loro, anche per una sorta di esorcizzare quanto stava per fare, perché l'abbiamo visto, Gesù pianse e trasudò sangue, l'abbiamo letto poco fa, e quindi era triste, era preso da grande angoscia. Ogni tanto lui magari si confidava con i suoi amici, quindi nelle sue prove personali, perché è stato vero uomo il Signor Gesù, e lui parlava con i suoi fratelli, i suoi amici, diceva, sapete, io morirò e poi risusciterò, ma io sto per passare per un momento di difficoltà. E quindi c'è questa, come dire, questa comunione con i fratelli, dice, voi siete stati con me per tre anni, non mi avete lasciato. E questa, come dire, questa unione non si è mai interrotta, è ancora oggi presente. Io voglio ricordare, per chiudere, che cosa successe quando Paolo, nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, Saulo, dovremmo dire ancora, vede questa luce sfolgorante e Gesù gli parla, dice, perché Saulo, perché mi perseguiti? Lui, Saulo, stava perseguitando la Chiesa. Quindi questa unione tra Gesù e la Chiesa, questa comunione è totale a tutti i livelli, così come gli Apostoli sono stati vicino a Gesù per tre anni, Gesù è vicino a noi per sempre. Amen. Quindi Gesù è la nostra, come dire, ancora di salvezza? No, Gesù è il nostro tutto. Gesù non è solo quello che abbiamo bisogno, quello che viene definito in termini, come dire, nel Nuovo Testamento, mancare il bersaglio, il peccare e mancare il bersaglio, perché altrimenti noi cerchiamo solo quando abbiamo un bisogno. Gesù vuole essere con noi sempre e lo dobbiamo tenere sempre vicino a noi, anzi noi dobbiamo seguire Lui. Tenendo presente, come ha detto il fratello, noi non siamo stati chiamati a vivere il nostro tempo nella totale, come dire, nella spensieratezza. Noi non abbiamo scelto Gesù perché ci avrebbe cambiato alle sorti del nostro conto corrente. Noi abbiamo scelto Gesù perché Gesù è tutto per noi e noi vogliamo sapere dove Lui abita, cioè stare con Lui. Gesù ci ha avvisato, ricordatevi, il sero non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, ma puoi aggiungere, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Quindi quando noi parliamo non vi preoccupate perché quella parola farà breccia nel cuore delle persone. Amen? Se non in quel momento al tempo che Dio ha stabilito. Noi dobbiamo compiere tutto il dovere che Dio ci ha messo da fare del nostro cuore. Amen? E sappiamo questo, che chi tocca noi tocca la pupilla del suo occhio. Quindi il Signore è sempre vicino a noi, si prenderà e si prende e si prenderà sempre cura di noi. E concludo con dei versetti straordinari che Gesù enunciò ai Suoi Apostoli prima di andare via. In Giovanni nel capitolo 14 i primi tre versetti dicono questo. E concludo con questo momento, come dire, questo viaggio di tre anni velocissimo dei discepoli appunto che seguirono il Maestro perché loro amavano sapere dove Gesù fosse, dove Gesù sarebbe stato per sempre. Il vostro cuore, dice così Giovanni 14 dal primo al versetto 3, non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti dimori, se non ve l'avrei detto io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Gloria sia data al nome del Signore. Non vedete come si conclude questa parabola di tre anni in maniera straordinaria? Questi dodici, anche se poi rimangono in undici, all'inizio, come dire, Andrea, l'altro discepolo, che poi nel giorno successivo Andrea andò da suo fratello Pietro. Cominciarono anche loro ad evangelizzare gli altri e si creò in pochissimo tempo, in ventiquattro ore, il gruppo dei dodici che cominciarono a seguire il Maestro. E tutti avevano lo stesso scopo perché quando Pietro fu raggiunto dal fratello, che cosa gli disse? Pietro, Pietro, abbiamo incontrato il Messia, non abbiamo incontrato il direttore della banca che ci darà un sacco di soldi. No, era sempre quello, sempre quello lo scopo. Quindi che cosa succede? Per chiudere questo straordinario momento, gli Apostoli hanno seguito il Maestro per quello che lui era veramente. Quindi la domanda che lo Spirito Santo sta porgendo al nostro cuore per chiudere era la mia campanella. La domanda che lo Spirito Santo sta porgendo al nostro cuore questa sera è la stessa. Dove noi stiamo concentrando il nostro interesse? Dove abita Gesù? Bene, Gesù ci ha promesso che lui sta preparando un posto affinché noi stiamo proprio con lui, perché Gesù ci ha detto affinché dove sono io siate anche voi. Quindi la parabola si chiude. Gli Apostoli sapevano di questo, questa promessa fu per loro e la stessa promessa si non l'ha fatta per noi. Lui sta per tornare. Quindi la domanda che lo Spirito Santo, ripeto per l'ultimo modo, sta facendo al nostro cuore, che cosa cercate? Lo sapete solo voi. Chiedetene nel vostro cuore, in preghiera questa sera, in questo momento, affinché il Signore possa, come dire, noi stessi possiamo comprendere qual è veramente il desiderio del nostro cuore. E voglio concludere con due parole. Signore nostro, ti ringrazio dal profondo del cuore. Ti ringrazio, voglio ringraziare a nome di tutti, anche i miei fratelli e le mie sorelle che hanno pregato per mio figlio Whitney e voglio pregare per tutti quelli che sono in un letto di infermità, per tutti i bisogni del tuo popolo, per l'opera tua, Signore, che sta crescendo sempre di più, nonostante gli attacchi del nemico, Signore. Grazie, Signore, per questa, ancora una volta, tu non sei cambiato per questi miracoli che tu compri in mezzo a noi. Ma soprattutto, Signore, questa sera, voglio dirti grazie, perché tu hai messo nel nostro cuore il desiderio della vita eterna e di seguirti ora e sempre, perché sappiamo che dove tu sarai, noi saremo con te. Ti ringraziamo e ti chiedo di benedire quest'opera nel nome di Gesù. Amen. Grazie.